L'almanacco della fede Di Padre Livio E dobbiamo aprire anche come sempre La nostra cacchierata del mattino Con un pensiero spirituale Oggi vorrei concentrare la mia attenzione Su un'esortazione Che ci ha fatto La regia della pace Nel suo messaggio del 25 maggio Quando ci ha detto appunto Che dobbiamo Convertirci di nuovo E scegliete ha detto Quindi proprio un imperativo La via della santità e della speranza Allora Vorrei focalizzare proprio Questa indicazione Questa esortazione della regia della pace E cioè scegliete La via della speranza Per comprendere Questa esortazione Dobbiamo Contraporla A un'altra Che ha fatto la Madonna Qualche mese fa Riguardante L'uomo moderno Cioè riguardante Il modernismo in generale La mentalità modernista Nella cui La cui essenza È il superamento Del cristianesimo Come Religione Mai superata E al posto Della visione Teocentrica Della vita Propongono Una visione Antropocentrica Cioè fondata sull'uomo E quindi Praticamente Mondanizzano La vita umana Qui sulla terra E di questa mentalità La Madonna ha detto L'uomo moderno Non vuole Dio E va verso La perdizione Ora la Madonna È qui ad esortarci A prendere La via della speranza Cosa vuol dire Cari amici Vuol dire che Quella proposta Che viene fatta Oggi E che comunque È in crisi È entrata in crisi Proprio con Il mondo Che si prepara Alla guerra È entrata in crisi Con il covid Che era già Un atto di guerra In un certo senso Perché si facevano Sperimentazioni Che poi Hanno portato Quello che hanno portato E quindi La Madonna Cosa vuol dirci Vuol dirci Che si sta Realizzando La sua profezia Che ha fatto Fin Dei primi anni Della apparizione Vi ricordate Il messaggio Del 30 ottobre Del 1981 Due mesi Della apparizione La Madonna Aveva detto L'Occidente Ha incrementato Il progresso Ma senza Dio Come se Dio Non ci fosse È stato il primo accenno Che la Madonna Ha fatto Al progetto Dell'Occidente Nel dopoguerra Di superare La visione cristiana Della vita E quindi Superare la civiltà Fra virgolette Perché Il cristianesimo È molto più Che una civiltà Però ha prodotto Una civiltà Che è quella occidentale E quindi Con tutto quello Che è avvenuto In questi Ottant'anni Nel dopoguerra Cioè la dissoluzione Graduale Della fede E la sostituzione Della fede Con Il modernismo Cioè con una visione Antropologica Della vita Come se l'uomo Fosse un derivato Della materia E quindi la sua vita Incomincia Con l'apparire Sulla terra E finisce Del tutto Con lo scomparire Qui sulla terra Ora cari amici Questa 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 prospettiva Che Ha cambiato Profondamente Il modo di sentire Di vedere Della gente Per me Che sono vissuto Ho avuto la grazia Di vivere Ancora I primi anni E Sono nato Nel 1940 E il mio ricordo Del mio abito Era quello Di una Una fede Vissuta Nella prospettiva Della al di là Nella prospettiva Della salvezza Dell'anima Nel timore santo Del giudizio di Dio Per il peccato E nel medesimo tempo Una Una Un affronto Una Come dire Una Un mettere la propria vita Nella luce dei comandamenti Per poter modellare In quella In quella In quella prospettiva Man mano che è passato Il tempo È crollato quasi tutto Del cristianesimo È rimasto poco Si è imposta La superbia umana La volontà umana E Si sono imposte Le false speranze Che adesso Stanno cadendo Una per una Da speranze Che erano Fino a dieci anni fa Di un mondo nuovo Di un mondo diverso Di un mondo Dove la scienza La tecnica Avrebbero risolti I grandi interrogativi Dell'umanità Perché il dolore Perché il male Perché la morte Liberate le ingiustizie Liberate l'uomo Dalla schiavitù Del lavoro Insomma Il paradiso in terra Sapete che questa è La grande illusione Del novecento Del comunismo E del nazismo Il paradiso in terra No In terra c'è l'inferno Il paradiso E quel paradiso Che c'è È giustamente Quello Di coloro Che aprono il cuore a Dio E ricevono la sua luce La sua luce di verità E la pace Del suo amore Ora Cari amici La Madonna Di fronte a questo panorama Che noi vediamo Del crollo Delle speranze umane Del crollo Dei progetti umani Di fronte all'emergere Delle minacce E Il Satana Che Che Ti appare Come una bella donzella No E poi improvvisamente Ti mostra Ti mostra Le sgrinfie Gli occhi della strega Quella è la sua identità vera E così Le illusioni Cadono E Rimane che cosa Cari amici Rimane la disperazione Cioè Non vuole Dio E va Va disperato Verso la perdizione Perché tutte le sue speranze I suoi progetti umani Crollano E noi li vediamo Crollare Tutti i progetti umani Di Di liberazione Ma a mano che il tempo passa Diventano progetti umani Di schiavitù Di distruzione Ma l'abbiamo sotto gli occhi Cari amici Non c'è bisogno Di andare molto lontano Voi vedete I giornali I radio giornali I telegiornali Stanno Stanno Descrivendo Il crollo Del mondo nuovo Senza Dio Il dilagare Dell'odio Stanno descrivendo Il regno di Satana Quando mi hanno detto Satana regna Ha detto qualcosa Di molto visibile E di molto concreto Allora Cari amici Noi Noi cristiani Siamo chiamati E questo è il compito Della Madonna E' il motivo Per cui la Madonna E' qui da così tanto tempo La Madonna E' qui Perché Noi non collassiamo Su noi stessi Sprofondando Nella disperazione E quindi Andando verso L'autodistruzione Che è l'obiettivo Verso il quale Satana ci può portare Perché la Madonna Ce l'ha detto Già nel 1991 gennaio Poi l'ha ripetuto Nel mese di marzo In pieno covid Il 25 marzo del 2020 Poi l'ha ripetuto In un modo diverso Nel settembre 2021 E cioè Che Satana Che Satana Vuole distruggere la vita E la terra Su la quale voi camminate Questo dunque E' l'obiettivo di Satana Trasformare il mondo In un inferno E' un'affermazione Audace Certo che è audace Ma è reale E' visibile E' concretamente Verificabile Noi pensate Come era il mondo Solo vent'anni fa Ma è riconoscibile Rispetto ad esso Lo spirito era diverso C'era una speranza umana Che voleva liberarsi Dal cristianesimo E che adesso Si sta mostrando Una chimera Un inganno In questo crollo In questo crollo Di progetti umani Di liberazione Di felicità Di emancipazione In questo crollo Dove Ha un cambiamento Ne succede uno peggiore E così via La Madonna La Madonna ci invita A non disperarci La Madonna ci invita A scegliere La via della speranza Che cos'è la via Della speranza È la Madonna stessa È la Madonna stessa La via della speranza Lei è la nostra speranza È la donna Che viene dal futuro È la donna Che ci dà la speranza Quale speranza? La speranza cristiana Cari amici La speranza cristiana Che è fondata Sulla vittoria di Cristo Sul peccato E sulla morte È fondata Sulla vittoria Della croce Sua sua gloriosa Ressurrezione Sul cambiamento Dei cuori Sul cambiamento Dalla vita Sulla prospettiva Della vita Come cammino Verso l'eternità È la vittoria Della verità Della pace Della giustizia Dell'amore Che incomincia Qui su questa terra E poi si allarga Fino alla vita eterna Questa è la speranza cristiana Che la Madonna Vuole Che noi In questo tempo Di crollo Delle speranze umane Per cui La gente È esaurita È depressa È come dire Inacidita È arrabbiata Anche con la chiesa E E si dimentica Che Non c'è Lo strumento Che Che questo Perché Perché Cristo È vivo Nella chiesa Cristo non è fuori Dalla chiesa Cristo è nella chiesa È vivente Nella chiesa È vivente Nell'eucaristia È vivente Nella parola di Dio È vivente Con lo spirito santo Vivente Nella Nella Testimonanza Maravigliosa Di tante anime E Di ogni genere Un panorama Di santi Che Anche moderni Che ci illuminano Che ci testificano Che la speranza cristiana Non delude Cari amici Allora noi Allora noi Quale Cosa dobbiamo fare Per obbedire A questo comando Dalla Vergine Scegliete La via Della speranza Vuol dire Cari amici Prima di tutto Distogliere il cuore Dalle false sicurezze Dalle false Speranze umane Cioè Non c'è nessuna Possibilità Che l'uomo Si liberi Dalla sofferenza Dal male Dalla cattiveria E infine Dalla morte Non c'è nessuna Speranza Che l'uomo Si liberi Dall'inferno Detto in parole Povere Perché Perché il diavolo C'è Perché il diavolo Vegna Perché il diavolo Agisce Nell'ambito Della permissione divina Non ci sarà Quando finirà Il mondo Ma prima che il mondo Finisse Finisca E prima che la storia Finisca Satana opera Cari amici E lui Operandoci Illude Con le false speranze E nel medesimo tempo Ci tiene lontano Della speranza cristiana E ci trascina Verso la disperazione Ci fa percorrere La via Che è la sua Quella Delle facili realizzazioni Della vita Senza comandamenti Della vita Senza Dio Della vita Fai quello che vuoi E alla fine Siamo Alla fine Ci succhia l'anima E ci fa diventare Degli zombie Ci fa diventare Dei gusci vuoti Ma non si vede Cari amici Rimangono In molte persone Le attività Elementari Perché L'intelligenza Rimane Perché Anche Satana È molto intelligente Però Però Alla fine Se tu vai a fondo Sono di Sono di Diciamo Il sottosuolo Subconscio Come diceva Il padre Della psicanaggia Tu Sono di Le profondità Dei cuori Tu vedi Abissi Abissi Di Nero Di inchiostro Vedi Abissi Di disperazione E' così Cari amici E' l'inferno Che si Che si instaura Che ti prende E ti divora Queste cose Cari amici Sembrano Esagerate E lo sono E che purtroppo Sono vere Perché Il male che affiora Nel mondo E che noi vediamo Visibilmente La violenza L'usuria Tutto ciò Che produce Che producono I visi capitali Noi lo vediamo Alla superficie Ma se noi Vedessimo Le profondità Dei cuori Ci sarebbe Da inurridire Cari amici Perché il regno Del male E' tremendo Le profondità Di satana Sono Spaventose E quindi Cari amici E' inutile Che perdiamo tempo In ciò Che il mondo Ci offre Dovemo Decisamente Se siamo Sulla via Della perdizione Sulla via Del rifiuto Di Dio Del rifiuto Dalla fede Del rifiuto Della croce Dovemo cambiare Se abbiamo Cuore Noi stessi Abbiamo Cuore La nostra vita Abbiamo Cuore Quelle Delle persone Che in parte Dipendono Anche da noi Da come Noi ci comportiamo Se vogliamo Che vinca La vita Sulla morte L'amore Sull'odio La verità Sulla menzogna Dovemo decidere Per la via Della speranza Speranza Che il mondo Cambierà Che i cuori Cambieranno Che la madonna Vincerà In nome di suo figlio E che ci sarà Un tempo Di regalità Divina Su questa terra Che sarà Il tempo Della pace Che deve già Incominciare Adesso Anzi È già Incominciato Adesso Già adesso Mentre un mondo Muore Mentre un mondo Cade Mentre Anche Tutto ciò Che non è Autentico Del Vangelo Cade Mentre Il tocco E falso Cristianessimo Cade Come tutti Gli orbelli Umani Con cui Ci abbiamo messo Sopra Per Adattarlo Alla nostra Mediocrità Tutto questo Cade Cade tutto Da solo Cari amici E rimane Rimane Nella sua Bellezza Nella sua Luminosità Nella sua Come dire Anche Fonte di gioia La speranza cristiana Cristo Cristo La speranza cristiana È Cristo È Cristo Risorto Glorioso Vincitore Del Mare Della Morte Presente Nella Chiesa In particolare Nell'Eucaristia Questa è la decisione Che dobbiamo prendere Quelli che sono tanto Critici Verso la Chiesa Ma si ricordino Che come ha detto La Madonna In tanti messaggi Che attraverso Le mani Benedette Dei pastori Che suo figlio Ha scelto Arriva a noi I perdono Di peccati La grazia La grazia La grazia Della conversione La grazia Dei sacramenti La grazia Della pienezza Della verità evangelica Cioè Non si può Vai passare Cioè Non puoi Tu Ti illudi Di attingere Le fonti di grazia Della redenzione Vai passando La Chiesa Come se la Chiesa Non ci fosse Questa è L'ennesimo inganno Di Satana Perché Perché Gesù Ha detto Chi Chi ascolta A voi Ascolta a me Chi disprezza A voi Disprezza a me Ha detto A loro A questi pescatori Andate E vedicate Il Vangelo A tutte le genti A chi rimetterete I peccati Saranno rimessi A chi non rimettete Non saranno rimessi Quindi Questa speranza cristiana Doviamo viverla Non come Come dire Qualcosa di molto personale Sì È qualcosa di molto personale Ma è Che ti introduce Nella Che ti introduce Nello strumento Di salvezza Nel sacramento Di salvezza Del mondo Che è la Chiesa Nella quale Cristo vive È presente E opera E questa E questa E l'opera Della Madonna E proprio anche questa Cioè Lì sta costruendo La speranza cristiana All'interno della Chiesa Dentro la Chiesa Perché la Chiesa Sia Conforme la sua vocazione Che è quella Di essere la luce Delle genti L'almanacco della Fede Di Padre Livio L'almanacco della Chiesa